Blogosfera, IAB Forum 2010, siamo in compagnia di Paolo Cereda di 7Pixel. Ciao Paolo e benvenuto sul blog di IAB. Ciao e grazie mille. Paolo, dacci subito quelle che sono un po' le tue impressioni a caldo su questa due giorni IAB Forum 2010, com'è andata? Decisamente positivo per quanto ci riguarda. Tieni presente che per noi è anche la prima partecipazione, per cui risultati ottimi, buoni contatti e direi anche un buon 30% di Spagna, Francia, Spagna e non solo ma anche oltreoceano con Brasile, per cui direi decisamente positivi. Senti, il tema un po' centrale di questo IAB è il futuro del web, come si svilupperà secondo te internet nel futuro? Io ho una visione molto, come dire, e-commerce del web, la tendenza è quella molto legata al social, per cui non a caso anche noi stiamo cercando di sviluppare qualcosa in quella direzione, direi molto più web ormai 3.0, molto più orientato verso qualcosa di social in sostanza. Senti, l'hai già citato, parliamo di e-commerce, come sta andando e come andrà? Per quanto ci riguarda sta andando bene direi, siamo costantemente in crescita, aumentano i contatti avuti provenienti anche dall'estero, per quanto ci riguarda siamo soddisfatti perché abbiamo anche un network europeo con UK Germano, non solo gli utenti, aumenta anche la fiducia nell'acquisto online, lo rileviamo quotidianamente dalle opinioni degli acquirenti online, sempre più positive e, ripeto, sempre in crescita, per cui decisamente soddisfacente. C'è ancora un grosso gap a livello di e-commerce tra Italia, Europa e mondo? Ai me sì, ai me sì, i discorsi sono sempre quelli vecchi, fatti anche in altre manifestazioni sostanzialmente, siamo decisamente ancora indietro, non vorrei ritoccare i soliti argomenti, banda larga, logistica e quant'altro, ma le problematiche ci sono, è inutile negarlo. Paolo, grazie e a presto. Grazie a voi, arrivederci.